bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite una settimana molto importante quella che ci attende perché stiamo aspettando la conferma delle overtime challenge quindi le sfide che ci daranno più punti esperienza ma soprattutto di sapere qualcosa sulla patch 12.40 quella che dovrebbe anche includere degli elementi extra per il possibile evento di questa season 2 nel video di oggi però vedremo tante cose interessantissime tra cui una roba strana che è successo a tfu poi vi spiego parleremo del nuovo psn pack e vedremo insomma tante informazioni prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video news ma la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a farvela ogni giorno mi piace leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi non ve l'ho mai chiesto ragazzi come ho fatto a non chiedervelo ma te quale stile preferisci di deadpool normale con la maschera oppure senza maschera sono belli tutti e due ragazzi ci stanno ma se io dovessi scegliere a me piace mascherato pulito preciso con il suo backpack doppia catana ci sta un botto ragazzi dimmi qual è invece il tuo stile preferito di deadpool qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle vande e vando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere il primo argomento che parla per di alcune cose riguardanti la storyline e sì perché oramai se seguite i miei video news ci stiamo addentrando sempre di più in quello che sembra essere un collegamento con il capitolo 1 di fortnite gli eventi molto strani che abbiamo visto in fortnite e se andiamo a leggere questo post ci dice il capitolo 1 non è che dicono non è che l'evento il butterfly event ve lo ricordate dove tutti siamo stati sospesi in aria stavamo per andare a toccare poi si è trasformata la farfalla insomma non è che il butterfly event non era altro che un predict su quello che sta per succedere in questo secondo capitolo di fortnite e che ci siano degli universi paralleli la cosa è molto interessante ragazzi e soprattutto ha un sacco di senso con quello che sta succedendo durante i giorni di questa seconda season del capitolo 2 di fortnite abbiamo visto tutto il discorso di mida che potrebbe essere uno dei visitatori che ancora non conosciamo abbiamo visto questi oggetti intorno all'agenzia e le similitudini con quello che sono gli eventi e con quello che è successo nelle varie season e nella mappa dello scorso capitolo è davvero interessantissimo se andiamo a prendere questo spezzone che è tratto proprio dall'evento del butterfly sopra vediamo come different parallel worlds quindi tutte le varie tutti i vari punti di luce quelli che poi insomma il giocatore va a toccare potrebbero essere i mondi paralleli e quindi potremmo voler intendere che i capitoli di questo fortnite sono da intendere come mondi paralleli guarda caso alla fine del capitolo 1 è stato tutto risucchiato al centro e abbiamo avuto appunto il famoso buco nero per 36 ore e tra l'altro se andate a leggere sotto in inglese le linee azzurre potrebbero essere potrebbero essere appunto le linee di interconnessione tra questi mondi ha tutto un sacco di senso e non vedo l'ora di riuscire anche io a far luce un pochettino di più e a farvelo vedere se ovviamente voi avete qualche teoria beh ragazzi scrivetela qua sotto perché sono sempre ben accette e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi giustamente molti si stanno facendo delle domande sul fatto delle icon series che cosa sono le icon series in poche parole sono quelle skin dedicate ai personaggi che hanno contribuito allo sviluppo e alla fama di fortnite ne abbiamo vista per adesso una quella di ninja che ovviamente è stato ed è tuttora comunque uno dei personaggi più influenti per quanto riguarda questo videogioco ma la community si chiede quindi cioè quella era la icon series non c'è più niente beh rispondono direttamente da reddit e un membro dello staff dice è passato un po' da quando la skin del ninja è uscita ma stiamo lavorando su working to the staff su della roba nuova che sarà meravigliosa quindi ragazzi aspettiamoci di vedere qualcos'altro sto cercando di pensare chi possano essere delle persone che hanno influenzato questo gioco mi vengono in mente così a freddo tifiù, buga, benjifish, mongral e piano piano andando a scalare quindi staremo a vedere che qualcosa arriverà e andiamo avanti a parlare con il prossimo argomento di oggi beh c'è un'altra conferma direttamente dalla pagina trello di fortnite dove viene annunciato che con il prossimo aggiornamento la patch appunto 12.40 che dovrebbe arrivare a brevissimo non dovrebbe essere oggi ma si parla tra domani e dopo domani saranno anche reintrodotte le granate c'è stato il bug dove praticamente le si potevano lanciare infinite volte tanta roba il ritorno delle granate oggetto tolto oggetto poi rimesso devo dire che utilizzate correttamente fan su un degenero quindi confermato il ritorno e andiamo avanti ragazzi a parlare del prossimo argomento di oggi ed eccolo qua la notizia è uscita ieri nel tardo pomeriggio ci sarà un nuovo pack completamente gratuito per i possessori del plus di playstation il pack si chiamerà point patroller e lo vediamo innanzitutto in maniera un pochettina più nitida in questo modo come vedete i colori sono sempre gli stessi il bianco e il blu molto carino diciamo l'outfit in sé belli gli occhiali bello lo stile point patroller come vedete è ovviamente corredato del suo backpack che si chiama reckon strike quindi ricordatevi ovviamente di avere collegato il vostro account dps per poter recuperare anche voi gratuitamente il pack e sad story per l'oxuder che non può collegarlo e quindi un altro pack di psn che si va a bruciare tanta tanta roba comunque fortunati sempre quelli che sono da playstation perché io sinceramente non ho ricordi di pack celebrativi gratuiti per i possessori di nintendo switch o di xbox o addirittura di pc quindi tanta roba per voi e tante cose e andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi ve ne avevo già anticipato anzi voglio farvi vedere una clip che spiega molto quello che vi sto per dire magari la commentiamo sotto vediamo all'opera in un competitive tfew e dei membri del team liquid guardate la clip è un po' tossico tfew è un po' tossico tfew è qua a parte a insultarlo violentemente il membro del team insultati tfew partita dopo è un po' tossico tfew partita dopo insomma ragazzi che cosa è successo allora in questo competitive tfew ha fatto il tossico dopo ovviamente che era stato insultato un pochettino dai giocatori del team liquid il problema è che nei game successivi c'è stato sempre questo scontro al grottos quindi alla grotta da parte appunto del team liquid e del team di tfew il problema più grave però è che vengono accusati i due ragazzi dell'altro team di teaming e ci sono delle clip molto interessanti che potete trovare in giro dove si vede che il grotto è conteso sempre da tre team ma stranamente i due team che sono ovviamente quelli non di tfew non si sparano mai quindi giustamente c'è sempre quel chi va là vedremo se verranno prese delle sanzioni dei provvedimenti per adesso ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e io sono proprio adesso in live su twitch ciao ciao